Le incursioni di una magistratura che ad Arezzo non si è accorta di chi spolpava le banche negli anni passati non devono incidere sulle scelte della città e quindi sono qua a rinnovare la fiducia in una squadra che ha ben lavorato. Questo l'affondo del senatore Matteo Salvini è arrivato in città per sostenere la candidatura bis di Alessandro Ghinelli, un duro attacco nei confronti della magistratura retina accusata dal leader della Lega di aver iniziato ad indagare su Banca Etruria con poca tempestività. L'inchiesta a cui fa riferimento Salvini è quella relativa al caso Coingas a molti servizi e destra che vede iscritto nel registro degli indagati anche il nome del sindaco di Arezzo accusato di favoreggiamento e abuso d'ufficio. Il titolare dell'inchiesta è il PM Roberto Rossi, lo stesso magistrato che aveva condotto le indagini sul crack di Banca Etruria. La procura di Arezzo replica adesso così alle accuse di Salvini tramite una nota a firma di Luigi Bocciolini, il procuratore facente funzioni, nella quale ripercorre le tappe dell'inchiesta sul crack dell'Istituto di Credito Eretino, che ad oggi vede già condanne importanti. La dichiarazione di insolvenza della Banca Etruria necessaria per ipotizzare i reati di bancarotta viene pronunciata dal Tribunale di Arezzo l'11 febbraio 2016, si legge nella nota. Il primo fascicolo, a carico dell'Istituto di Credito, viene iscritto in data 25 febbraio 2016. La prima richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 21 imputati per il reato di bancarotta è invece del 26 giugno 2017. Una seconda richiesta di rinvio a giudizio a carico di altri 25 imputati, sempre per bancarotta, è stata depositata il 27 luglio 2017. Il giudice di Arezzo inoltre ha pronunciato la sentenza di condanna a carico di amministratori della Banca Etruria, sempre per i reati di bancarotta, in data 30 luglio 2019. A carico di altri imputati non giudicati in quel primo processo, sono attualmente in corso processi davanti al Tribunale Aretino, conclude la nota del procuratore Luigi Bocciolini.